Rikko, qui Sheldon! Ah, dovevo immaginare che saresti sopravvissuto. Cosa ti serve? Hai infastidito di Ravello. Costa del Porto sta per soffrire le conseguenze del suo disappunto. Pensavo che tu e i tuoi ragazzi avreste voluto saperlo. Grazie, Sheldon. Mario, sei lì? Ho sentito. Segnalati i ustili in zona. Ci vediamo fuori città. Rispondete! Vai! Marcheggio perfetto. Dispaccio. Il bersaglio è ancora in libertà. Trovatelo! Nel caos! A tutte le unità trovate il ribelle e ha messo l'uso della forza. Trovate subito il ribelle! Non fatelo scappare! L'abbiamo perso. Tornate ai vostri posti. Non fatelo scappare! Qual... Non fatelo scappare! mi deve far passare che atterraggio si facciamolo ricevuto rinforzi in arrivo avvio del protocollo di ricerca trovatelo il prima possibile rinforzi di terra in arrivo alla vostra posizione il bersaglio ha lasciato la zona a 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 convergere su queste coordinate contatto visivo cessato a tutte le unità sparpagliatevi e trovatelo avvio del protocollo di ricerca trovatelo il prima possibile a 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 tutte le unità trovate il ribelle e ha messo l'uso della forza provate subito il ribelle non fatelo scappare si davvero tu a 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 bersaglio in libertà ristabilire contatto visivo immediatamente a 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 ricevuto rinforzi in arrivo a 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 avvio del protocollo di ricerca provatelo il prima possibile a inviamo immediatamente altre forze di terra alla vostra posizione a a tutte le unità trovate il ribelle e ha messo l'uso della forza a 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 coordinate stiamo inviando supporto di terra alla vostra posizione a 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 ma sparpagliatevi e trovatelo dispaccio richiesta ricevuta rinforzi in arrivo trovate subito il ribelle non fatelo scappare a 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 segnalata attività ribelle raggiungete immediatamente queste coordinate a 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 avvio del protocollo di ricerca trovatelo il prima possibile e vai giù contatto visivo cessato a tutte le unità sparpagliatevi e trovatelo a a a a a a stiamo inviando supporto di terra alla vostra posizione Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Provate subito il ribelle! Non fatelo scappare! Ehi, come riesci a farlo? È sempre un piacere! Ok! 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 Gli ufficiali della DRM vi ricordano, se vedete qualcosa... Dispiegamento forze delitto autorizzato, squadra in arrivo. A tutte le unità trovate il ribelle, è ammesso l'uso della forza. Dispaccio, il bersaglio è ancora in libertà, trovatelo! Avvio del protocollo di ricerca, trovatelo il prima possibile. Bersaglio è in libertà, ristabilire contatto visivo immediatamente. A tutte le unità trovate il ribelle, è ammesso l'uso della forza. Bersaglio! un altro ferro del mestiere qui base a breve giungeranno altri rinforzi e ora quello che so fare a un altro ferro del mestiere Perché non balliamo? Rispondete! C'è nessuno in ascolto? Dannazione! Rispondete! 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 a venire a cercare